...di meditazione, vedendo voi e me, di come importante sia il concetto di natura che ciascuno di cui ciascuno di noi potrebbe dare una definizione assoluta. Ma insomma ci sono vasti concetti che la abbracciano e che possono essere esplicitati in maniera nazionale. E poi il territorio, che sarebbe quel cantuccio in cui la natura ci ospita. Questa simpatia che noi condividiamo con quegli sentimenti ha poi costituito il nervo dei nostri rapporti. che non sono durati qualche mese ma che si continuano stabili nel tempo. E che vuol dire che l'uomo non ha perduto ancora del tutto la capacità di unirsi intorno a determinati sentimenti profondi, sensazioni, concetti vitali. Cerchiamo di conservare poi che siete, anche io, per il mio poco che mi resta, di mantenere questo sfondo della nostra vita, di amare ciascuno il proprio territorio e anche quello con cui si mette in contatto, perché lì sono le nostre vere radici. Grazie. 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 Grazie a tutti